Sì, grazie Presidente. Molto rapidamente questi primi emendamenti sono emendamenti più di forma che di sostanza dovuti al fatto che la proposta originaria è stata depositata ad aprile e poi si sono susseguiti i vari DPCM governativi e quindi sono semplicemente degli adeguamenti che riguardano il succesi dei provvedimenti nazionali. Quindi non mi soffermerei ad illustrarli più di tanto, eventualmente ce ne sono altri più di sostanza e interverrò su quelli. Quindi per quanto riguarda questi primi emendamenti esprimo soltanto il voto favorevole da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. E per tutti la spiegazione è la stessa, quindi li abbiamo adeguati ai DPCM governativi.